bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video allora andiamo al pantanello si è buttato andiamo a pantanella vediamo cosa succede non mi ricordo da quanto gioca lei a fortnight io gioco della season 3 la season 3 fantastico l'aveva preso il pass in season 3 no no l'aveva preso dalla 7 ah ok ok riusciamo a prendere il tetto si io però sono troppo basso della cassa su no lasci perdere potrebbero aprirci qua vieni qua che ci facciamo i barili facci dai le armi si è una miglietta verde la terra è uno qua io è arrivo la trada pompa porta anche l'altro buono ragazzi buona buona partenza buona partenza lei ha colpi piccoli 18 no allora niente abbiamo la taglia vicino attenzione rosso eccoli sono i passi da qui eccolo ma perché va dei cecchini c'è tante cose si sono in carta un dici facciamo il tuo regalo mi scusi mi scusi mi stavo un attimo gasando allora vediamo se riusciamo ho distrutto tutto distrutto tutto raga mi vado un attimo a rifare dei barilozzi non si azzardi a tirarne neanche una siamo a pantano e pieno di slurp se la sento se la sento tirare una splash e potrei alterarmi altamente andiamo c'è ovviamente un'urgenza che le sparano le tira ma penso che abbiamo pulito pantano io le la invito a farmare un po si sistemi se ha bisogno e poi ce ne andiamo prendo la taglia molto bravo dire di uscire da pantano e andarcene cominciamo a spostarci che non è proprio vicinissimo alla safe ragazzi ma ragazzi ma io mi chiedo tutti quelli che mi chiedono della end cam vi rendete conto che io l'ho tolta almeno due anni fa so che vedete magari dei miei video vecchi dove ce l'avevo ma ragazzi ho la end cam non ce l'ho da una vita e poi non serve a niente ragazzo cino che mi lancia orco giù da porco c'è proprio cattivo così non ce lo tiene lei una regola lei ok allora non la deluderò per questo regalo lei che ci sta portando mi dica mi dica è perci niente perché ho trovato il pesce a scudo ok io comunque ho preso la fiocina oppure la mette chi è talmente brutto per streamare che non vuole farsi vedere in faccia e anche emette emette la roba sulla telecamera no sulla tastiera io sono un bell'uomo grazie mi hanno telefonato tra l'altro qualche giorno fa direttamente da armani e ha detto e si devono diventare un modello ormani ho detto senti nino no andiamo abbiamo nuovi campi avviamento belli no no grazie andiamo poi ce la stiamo mettendo tutto ma è veramente difficile se avessi soppato ragazzi tutto il passo subito erano tipo livello 300 tra l'altro vi ricordate che nella season 2 di questo capitolo ogni 100 livelli ti dava anche lo standard o noi abbiamo preso l'ultimo standard o ragazzi quello che era del 500 che poi andato a livello 400 follia pura minchia era durata troppo raga 180 giorni quasi si sparano all'acqua e li sento devo dare un'occhiata avrei bisogno adesso poco di aiuto vengo salito la casa tra bianco bravo bravo dal tetto dal tetto dal tetto potenere vieni qua vieni entra 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 calma adesso li andiamo a prendere vieni con me arrivano arrivano vieni a prendere lo scorso io sparo qualsiasi cosa che si muove ragazzi ovviamente ho fatto probabilmente il riquadro come santino gli ho fatto a lei no non faccia riquadri come i santini non no 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 torni ritorno vera arco giuda sono andato troppo avanti io mi stavo ancora scelgando arrivo arrivo io arrivo io arrivo io boh ripusciamoli tanto ancora due shock boh ripusciamoli c'è che mi mira di me è andato è morto è morto è morto toglie 5 devo andare devo andare devo andare scusami sono contro la parte sbagliata ok 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 stavo andando dalla parte sbagliata stavo andando dalla parte sbagliata per favore per favore per favore per favore non posso neanche posso restarla o non posso restarla no ho distrutto le orecchie un passo e due cupido va bene boa qua qua 4 di seguito 4 di seguito 5 di seguito 5 di seguito